E' importante la sinergia delle associazioni che si possano abbracciare in progetti comuni e condividerli in ogni avamposto di legalità e speranza per i cittadini che riusciamo a costituire in tutto il territorio italiano. Grazie alla collaborazione con Tiziana Temma e con i circoli Insieme per il Meridione riusciremo sicuramente a fare sempre di più. Sicuramente avvieremo un percorso di sensibilizzazione alle istituzioni nel rivalorizzare un terzo settore che in questo momento più che mai ha dimostrato di essere presente soprattutto durante il periodo pandemico e continua ad esserlo con azioni piccole ma importanti e significative per il bene della comunità. Quindi questo è il messaggio che deve passare e soprattutto una testimonianza forte che si traduce in una operatività sul campo in via straordinaria con la forza delle gambe e il cuore e la testa. Grazie a tutti.